Ok, consiglio della quinta circoscrizione del 19 luglio 2021, ore 9 e 44. Appello. Teresi, presente. Aiello. Presente. Altadonna. Presente. Cavaliere. Presente. Di Gesù. Presente. E' un abvocato. E' un abvocato. E' un abvocato. Siamo sempre in registrazione. Lo so. Stacchiamo l'audio, per favore. Dove la veniamo a prendere, consigliere Stabio? Potete staccare l'audio? Ok, bravo. Figuccia assente. Lo sardo? Presente. Lucido? Presente. Palazzo? Presente. Stabile? 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 Consigliere Stabile? Non abbiamo sentito la sua presenza. Consigliere Stabile, consigliere Stabile, non la sentiamo. Non la sentiamo, consigliere Stabile. Ah, l'audio? Ora sì, io andavo a sardo. Ok, passendo. Ma mi vediamo. Mi vediamo, mi vediamo. Nove presenti e un assente. Sanna, avevo sempre una. Grazie, segretario. Ho visto il numero regale, la seduta è aperta. Buongiorno, consiglieri. Buongiorno. Consigliere, ci sono comunicazioni? Qualcuno vuole intervenire? Presidente, se posso, io volevo intervenire alla presenza del Presidente Teresi, però... E mi dica lei io che posso fare. È difficile trovarlo, ah. Intervento, se mi dà la parola. Prego, la parolta. Ok, grazie. Però mi prometto che se rientra il Presidente Teresi, la faccio rientravenire, così c'è il Presidente Teresi e lei gli comunica quello che deve fare. Prego. D'accordo, grazie. Niente, nei giorni scorsi ho letto un articolo dove pare che in città, e precisamente nel quartiere di Dore, a Piazza Principe e Camporreale, siano state colorate tre panchine con i colori simbolo della lotta contro l'omofobia sui migranti e contro la violenza sulle donne. Ora, in una città che ovviamente fa acqua da tutte le parti, lo sappiamo bene, sicuramente queste iniziative fanno bene sia al cuore che agli occhi. però, Presidente, ancora una volta si portano avanti delle iniziative senza che il Presidente coinvolga l'intero Consiglio. Ricordo a me stessa e a tutto il Consiglio che qualche mese fa è stata approvata una mia proposta, che è passata prima in Commissione Cultura, è stata approvata e poi successivamente in Consiglio, avente per oggetto la realizzazione di una panchina rossa contro l'omofobia sulle donne nel quartiere uditore. Ricordo a tutti che abbiamo scelto insieme di dingerla nella villetta di Via Tiepolo, tanto che abbiamo anche proposto un emendamento che era a firma mia, della consigliera Cavaliere, del consigliere Losardo, del consigliere Palazzo e non ricordo se era anche a firma sua. L'idea era quella di realizzarla proprio a uditore, perché sappiamo tutti quanti la storia di Carmela Petrucci. Infatti l'idea era quella di mettere poi una piccola targa nella panchina con su scritto a Carmela e a tutte le donne vittime di violenza e ovviamente allegando anche il numero che ne approfitto per ricordarlo è il 15-22 per segnalare appunto la violenza domestica. In quanto proponente, nei mesi scorsi avevo già avuto un'interlocuzione io con la dirigente scolastica della Settica Raro, che tra l'altro si era manifestata abbastanza entusiasta per questa proposta e dovevo fare un passaggio con gli stati generali delle donne, che loro ci tengono tantissimo a essere coinvolte, le avevamo già sentite in precedenza e ovviamente con la famiglia di Carmela, oltre ovviamente a sindaco, assessori, purtroppo ovviamente il Covid ha rallentato l'organizzazione dell'evento. A me personalmente è dispiaciuto tantissimo che nessuno ci abbia detto di questa iniziativa e che l'abbia presa dai giornali. Purtroppo non è neanche la prima volta che apprendiamo notizie del genere riguardanti interventi che avvengono nei nostri quartieri dalla stampa e non dal Presidente. La mia non è tanto una polemica, ma quanto una situazione. dico, questa è. Buongiorno. Oh, Presidente. Ah, perfetto. C'era la consigliata di giusto che stai intervenendo, la comunità voleva la sua presenza, per cui lei è caduto a pennello, come so dire. Prego, Presidente. Cado sempre io, qua sono, che succede? Posso ricominciare? Ero arrivata già a metà, Presidente. Comunque, ricominciamo brevemente. Io sentivo al consigliere Aiello. Ho appreso, leggendo dei vari articoli, che nel quartiero di Tore, a Pezza Prince di Camporreale, sono state colorate tre panchine con i colori del simbolo dei migranti contro l'omofobia, contro l'avvivenza sulle donne. Ho pure detto, dico, che in una città come Palermo, che sappiamo bene fare acqua a tutte le parti, purtroppo, dico, queste iniziative fanno sicuramente bene, sia al cuore che agli occhi, perché sono cose belle e in quanto cose belle andrebbero, a mio avviso, partecipate. Infatti, ancora una volta, dico, Presidente, io ho appreso la notizia dalla stampa, non da lei. Ricordavo che qualche mese fa è stata approvata una mia proposta, sia in commissione che in consiglio, dove tra l'altro è stato presentato anche un emendamento, perché abbiamo cercato il luogo più adatto nel quartiero uditore per poter finire di rosso questa panchina. La proposta, infatti, aveva per oggetto la realizzazione di una panchina rossa contro l'avvivenza sulle donne nel quartiero uditore. In quell'occasione fu presentato un emendamento mio di Rosardo, del consigliere Palazzo e della consigliera Cavaliere, dove avevamo individuato la billetta di via Tiepolo come luogo di via d'atto. Consigliere, mi permette di interromperla perché non vorrei, andiamo avanti su un equivoco, diciamo. Mi permetto di interromperla perché dalla stampa per fortuna è uscita una notizia, ma l'iniziativa non è né del Presidente della Quinta Circostrizione né della Quinta Circostrizione. L'iniziativa è organizzata dall'associazione insieme, inoltre, insieme al circolo PD della Quinta Circostrizione a cui ho aderito e a cui ha aderito anche il consigliere Altadonna. Quindi io la interrompo perché non vorrei che si continuasse su un equivoco perché non è un'iniziativa del Presidente né della Circostrizione. Il Presidente Teresi ha aderito e ha dato la sua presenza a un'iniziativa dell'associazione, inoltre, e del circolo PD della Quinta Circostrizione. Poi se dobbiamo, questo è la storia, diciamo, l'evento. Poi la stampa, per fortuna, e devo dire grazie, ha fatto uscire la notizia come se fosse un'iniziativa mia, ma io c'entro poco, se non nell'adesione all'iniziativa organizzata da altri. Punto. Spero di chiarire un passaggio, ma non è un evento organizzato da noi e da me. Quello sì, vabbè, allora probabilmente gli altri eventi che ho intenzione di organizzare probabilmente verrà più facile organizzarli con il Movimento 5 Stelle, forse. Vabbè, questo, diciamo, non ho mai messo lingua nelle organizzazioni dei partiti, se lo vogliono fare. È chiaro che dobbiamo distinguere le iniziative organizzate da noi, direttamente promosse e organizzate da noi, da iniziative da altri a cui do l'adesione e la partecipazione. Tra l'altro avevamo proprio votato una proposta a firma mia riguardante una panchina rossa nel quartiere di Tore, quindi mi è sembrata un po' una cosa così caduta un po' dal cielo per poco, non lo so. Non ci pensiamo solo noi alle cose. Ah, va bene, va bene. Però, poi, cambiando discorso, se posso continuare così... Certo, certo. Allora... No, interrotto solo su questo per un'informazione maggiore, diciamo. Sì, va bene. Vorrei poi segnalare un altro problema, ovvero quello dell'abbandono dei rifiuti in vie crociferi. Purtroppo si è verificato quello che io temevo e che ho più volte manifestato durante il Consiglio. Il problema è l'abbandono dei rifiuti ingombranti, infatti, in quella via. Non l'abbiamo risolto, non è stato risolto, ma è stato spostato. Per risolvere il problema abbiamo trovato una soluzione seria, lo sappiamo tutti. Spostando i cazzonetti si è risolto il problema in vie crociferi, angolo via di Martino, però ovviamente lo si è spostato in via crociferi, angolo cortile Carramusa. Per la serie, cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Presidente, occorre incrementare assolutamente la raccolta differenziata. Palermo differenzia 2, sappiamo bene che è partita nel, se non erro, 2018, coinvolgendo parte del quartiere Noce e creando disagi tremendi ai residenti. Diciamo che anche, soprattutto in inverno, molti di loro devono, non essendo coinvolti nel porta a porta, devono farsi diversi metri per conferire i rifiuti e questo è abbastanza fastidioso. Ovviamente poi si vengono a creare le situazioni che conosciamo tutti, via Serra di Falco, via Catolto Parisio. Ora, io la invito tramite l'ufficio di presidenza a inviare una nota per la rimozione degli ingombranti via crociferi, angolo cortile Carramusa e di farmene avere una copia, se possibile. E poi sollecitare per quel che si può l'amministrazione affinché l'ampliamento del porta a porta a porta, siamo agli sgoccioli, però veramente è stato un problema bypassato tante volte ed è, a mio avviso, l'unica soluzione a questo problema che associandolo, tra l'altro, con delle telecamere, ricordiamo che c'erano le telecamere all'angolo con via Di Martino, via Crociferi, però associando telecamere e un porta a porta che riguarda tutto il quartiere, i problemi, secondo me, vanno risolti. In questo modo è stato semplicemente spostato il problema ed era la mia preoccupazione più grande. Grazie, Presidente. Non la sentiamo. Mi sentite? Sì, adesso sì. Grazie alle consigliate di Gesù. Un altro argomento di cui io mi sono occupato, decine e decine di segnalazioni ci sono mie sull'allargamento del porta a porta su quelle zone. Mi ero anche azzardato a dire che nelle more si rimettessero di nuovo i cassonetti su via Serra di Falco, ma purtroppo si continua ad andare avanti con quest'andazzo che non è un buon andazzo, lo so che anche io continueremo a segnalare i problemi, come sempre abbiamo fatto. Consiglata Donna, lei voleva, stava dicendo delle cose, non so. Sì, volevo aggiungere sulla questione delle panchine che proprio in virtù della delibera della quale parlava la consigliera di Gesù, abbiamo avuto uno scambio di telefonate col consigliere Losardo che appunto ci ricordava di questa delibera e abbiamo chiesto al segretario del circolo Noce di non dipingere la panchina in via Tiepolo proprio perché era una cosa della quinta e ci siamo messi d'accordo con padre Emanuele della chiesa di Sant'Anfonso di Liguori e lo abbiamo fatto là. Ci abbiamo chiesto al circolo di farlo là e non in altri posti visto che c'era questa delibera. Su via Crociferi io concordo pienamente con quello che dice la consigliera di Gesù, puntualizzando solo una cosa, il problema non è stato spostato, il problema che era stato evidenziato e che è stato risolto era quello della scuola rispetto all'ingresso del cancello di via Crociferi, quindi quel problema è risolto. Il problema degli ingombranti, del differenziato ovviamente no e rimane coggente come dicevate. Grazie. Posso Presidente? Sì, prego, consigliere Gesù, però devo uscire. Consigliere Altadonna, io in quanto proponente forse il passaggio do a farlo con me più che col consigliere Losardo, così giusto per puntualizzare. E poi quando dico spostare il problema, perché comunque i rifiuti invece sono stati tolti in prossimità dell'ingresso della scuola, però dico aprendo le finestre nel mese di aprile, di maggio, dico l'aria è sempre quella, il problema è sempre quello, è stato semplicemente spostato. Quando dico spostato intendo proprio questo, che è a livello proprio, come dire, di salute pubblica, non abbiamo risolto nulla questo. Poi per carità che i ragazzi adesso entrino e non dobbiamo fare lo slalom tra gli ingombranti è già qualcosa. Però i problemi vanno risolti a mio avviso, non vanno spostati, altrimenti non andiamo veramente da nessuna parte. ho concluso. Grazie consigliere di Gesù. Consiglieri, io purtroppo devo uscire dall'aula perché mi sto recando in via D'Amelio per impegni istituzionali, quindi devo abbandonare i lavori e seguo i lavori il vicepresidente o il consigliere Pianziano. Buona giornata consigliere. Grazie a tutti. Mi stavo collegando, stavo attivando l'audio. Grazie, segretario. Ci sono altre comunicazioni? Presidente, mi scusi. Prego, nella facoltà. Posso? So che lei è consenziente, quindi mi permetto di fare un piccolissimo e breve intervento. Presidente. Prego, prego. Innanzitutto, ascoltavo la consiglia di Gesù in merito al discorso che abbiamo concordato con il Presidente e la consigliata donna, dove colorare la pancina. Insomma, se non mi è sfuggito qualche passaggio, ho compreso questo. Parte il fatto che non abbiamo concordato nulla, ma io ho ricevuto una telefonata che si stava preparando questa manifestazione, come la vogliamo chiamare, mi hanno chiesto dove sono collocate le panchine, al che io in un primo momento avevo pensato che ci riferissimo alla delibera che abbiamo votato, che era il riferimento alla panchina di via Tepolo, quasi davanti alla scuola Setti Carraro, dove insiste anche una villetta con qualche gioco per i bambini. Al chiamare, non c'entra niente, è un'iniziativa di un'associazione assieme al circolo della PD della Noce. Tutto qui. Il mio intervento si è basato soltanto su questo, ma non abbiamo assolutamente concordato nulla. Cioè questo acchiarimento appunto di quanto asserito dalla collega di Gesù, che poi non capisco perché doveva eventualmente essere interpellata in merito, non capisco, almeno forse ho capito male io il suo intervento. Ho capito male consigliere Lo Sardo, poi intervento. Ah ecco, forse sì perché magari ero in macchina e magari qualche passaggio mi sarà sfuggito, poi magari me lo chiarirà se gentilmente si potrà fare. Poi volevo sottolineare ancora una volta quello che è successo ieri appunto a Palermo dopo la nottata con i dinubi e i temporali appunto che hanno investito la nostra città. Ci sono state zone veramente qui scorrevano fiumi, anche la nostra circoscrizione non è stata assolutamente coinvolta, ecco dovevo dire questo, non è stata esclusa appunto da questa intemperia, da questi temporali, da questi fiumi di acqua appunto che partivano dai monti, dalle montagne. Ancora una volta ci siamo trovati sicuramente impreparati, non come l'anno scorso, ma sicuramente giù di lì. Ecco, io penso che bisognerebbe fare ancora più prevenzione, lavorando appunto sulle caditoie, realizzando nuove caditoie appunto dove necessita, e penso che non sia appunto un lavoro immenso da fare. Purtroppo siamo fermi di passo, di passo come si suol dire. E poi volevo altresì comunicare, anche se forse ancora non è ufficiale, ma sicuramente ufficioso, che si è dimesso da consulente allo sport il dottore Campagna. me l'ho saputo anche questo, ciò mi dispiace perché avevamo intrapreso un percorso che appunto, quanto pare, dopo le sue dimissioni, cadrà nel nulla. Il dottore Campagna è una persona che voleva sicuramente intraprendere delle iniziative, voleva lavorare sicuramente, ma purtroppo si vede che non ha trovato alcun riscontro con l'amministrazione e ha preferito deporre le armi. Prego consigliere Losardo, in merito a quanto accaduto domenica notte, mi associo al suo intervento e continuo a dire che ancora una volta questa amministrazione dimoscia la sua inefficienza su una programmazione territoriale. Come al solito ne abbiamo sempre parlato, ma nulla è cambiato, ormai bisogna soltanto attendere o che si dimetta questo sindaco per andare via questa amministrazione, oppure dovremmo ancora sacrificarci per circa un annetto, 11 mesi, o che sia. Pazienza, speriamo che abbia l'UMI e capire davvero che in questa città lui non ha più cosa fare, perché purtroppo devo dire che lo sta dimostrando giorno dopo giorno la scarsa programmazione di questa amministrazione. e anche l'altro intervento, uno come il consulente campagna, sicuramente era uno di quelle persone che cercava di lavorare, fare programmazione e così via, avendo visto un'amministrazione assente totale dalle problematiche della città, cominciando dall'offorte a finire alle opere che ci sono in atto, sarebbero le opere giornaliere, la pulizia, la ritoie, offazzamento, e tutto quello che concerne una buona amministrazione. E' chiaro che tutto possiamo dire, ma tranne che possa essere questa una buona amministrazione. Io l'altro giorno ho visto, un mio amico mi ha mandato una foto dal 2013 al 2020, ogni anno stesso problema. Questa è una foto che ritengo che alla fine, quando qualcuno pensa e dice, ma sai questa amministrazione, ma che c'entra questa amministrazione? Questa foto dà, come si suol dire, quella certezza che dal 2013 al 2020 nulla è cambiato. Non solo, ho risposto a questo mio amico che nel puzzole c'è da aggiungere il 2021, perché è accaduto domenica. Ma comunque, non resta altro che aspettare, ripeto, o le sue dimissioni che non avverranno mai, o questi 11 mesi che possano passare davvero presto per cercare di ribellare Palermo da questa amministrazione. Ci sono altri interventi sulle comunicazioni? Per fatto personale, Presidente. Prego, nella facoltà, Consigliere. Volevo rispondere al Consigliere Losardo. Io non ho detto che avete concordato. Siccome il Consigliere Altadonna è intervenuto dicendo che ricordava dell'approvazione di questa delibera, che appunto riguardava l'installazione di una panchina rossa nel quartiere uditore, ha chiamato lei. Io ho detto che, siccome la delibera è mia, è a firma mia, poteva farlo con me, che sono affermataria il passaggio. Si immagina se chiamasse me per avere i carimenti su una sua proposta riguardante magari Borgo Nuovo. Secondo me è stato poco corretto. Ma io non ho parlato di aver concordato insieme. Ho detto che il passaggio corretto era parlarne con me, che sono firmataria la proposta. Mi sembra che lei continua a navigare nel disguido, Consigliera di Gesù. Perché il Consigliere Altadonna non mi ha chiamato per il discorso della delibera. L'ho preso io, l'ho preso io il discorso della delibera. Nel senso, la mia era stata una domanda. Vi state riferendo alla delibera del Consiglio con la quale si prevedeva la coloritura di una pancina rossa? E mi sono risposto che non c'entra niente con la delibera. Questa è un'iniziativa completamente di un'associazione assieme al Circolo PD. Quindi il Consiglio Altadonna non mi ha posto la domanda della delibera di circoscrizione. Assolutamente no, l'ho preso io il discorso. E il Consiglio Altadonna, se mi sta ascoltando, mi può confermare quanto io sto dicendo. Ecco. Se posso chiarire, infatti, è andata in questo modo. Stavamo facendo l'iniziativa, si stava facendo l'iniziativa. Siccome erano state già fatte alcune panchine davanti a Piazza Sant'Alfonso dei Liguori da un'associazione, e questo me lo riferisce appunto il Consigliere Losardo, la delibera della consigliera di Gesù, poi approvata dal Consiglio, quindi comunque di tutto il Consiglio, e me lo riferisce il Consiglio Losardo, abbiamo chiesto al segretario del Circolo PD di farla ovunque, tranne che in Via Tiepolo, visto che mi era stata ricordata di questa delibera. Ci siamo messi così d'accordo con Padre Emanuele di Piazza Alfonso dei Liguori per farla davanti alla Chiesa. Questi sono stati fatte. Ok, riascolterò la registrazione, perché fosse la vostra intesa, vabbè comunque, ok. Questa è la realtà dei fatti. Potrei essermi espresso male io, non c'è una questione di ascoltare registrazione o cose, potrei essermi espresso male io, io volevo soltanto puntualizzare che quell'iniziativa non andava a sovrapporsi a quella della circoscrizione, che visto appunto che le pagine si possono fare, si può fare anche subito, consigliere di Gesù. E appunto, e appunto. Dico, l'importante è che si sia chiarito, appunto, che io non sono entrato in merito, ecco, alla delibera, anzi, l'ho estrapolato io il discorso della delibera del Consiglio, giusto? In realtà no. Se vi riferite alla delibera, io ho detto la panchina è quella davanti alla villetta di via Tiepolo, ecco, l'ho presa io. Pensavo fosse questa iniziativa, e invece no, no, dice, non c'entra niente. Ah, va bene, allora vi segnalo le altre panchine che sono collocate nel quartier oditore. Ecco, contattare me quando si va nel quartier oditore, io penso che sia normale, ecco, data la lunga militanza, appunto, nel quartiere oditore, ecco, non c'è nulla di male, a prescindere dal ruolo che rivesto, ecco, sì. Prego. Si, prego, Presidente, ci mancherebbe. Scusi se mi sono intromesso senza chiedere l'autorizzazione. Era chiarimento. Infatti, non l'ha fatto bene, ci mancherebbe. Anzi, è stato un momento di chiarimento. Però non voglio fare l'avvocato di nessuno. Ma con molta schiettezza anch'io ho capito dall'intervento del Consigliere Altadonna, magari ho capito anche male io assieme alla Consigliere di Gesù, per carità, ci sta, eh? Non ho nulla. Anch'io ho capito quello che ha capito la Consigliere di Gesù. Per cui o sicuramente abbiamo capito male noi, sia io che la Consigliere di Gesù, o magari involontariamente il Consigliere Altadonna si è presso male. Però, dico, voglio dire, il bello della democrazia è quello quando c'è un chiarimento. Per cui le cose sono chiarite. Per cui penso che... Presidente, posso... Dico, questo è il scadone. Sì, sì, dico, sicuramente sarò stato io a spiegarmi male. No, ma per carità, nulla, nulla è incongiato. Capita a tutti, può capitare anche a noi, per carità. Era soltanto un modo per precisare. Ripto il passato del Consigliere di Gesù. Non lo sentiamo più. Non lo sento più, Consigliere Altadonna. È uscito. Scusate, ho perso la connessione. Dicevo, sicuramente mi sono spiegato male io. Il passaggio è stato col Consigliere Rosardo per conoscere la mappatura delle panchine di uditore e in quella conversazione il Consigliere Rosardo non solo mi ha ricordato quella delibera ma mi ha anche ricordato del quale non era conoscenza, ovvero che un'altra associazione aveva riqualificato le panchine di Piazza Salta Alfonso dell'Ivole e a tutela proprio della delibera della Consiglia di Gesù, anzi, della Consiglia di Battiglio è stato chiesto al segretario che si riconosce che era l'organizzatore di dipingere dove volere tranne che è tutto qua com'è andata, se va bene così, se no ci riascoltiamo la registrazione se non siete ancora soddisfatti. No, no, nulla ha detto questo. Nessuno ha detto questo, Consigliere Altadonna. Io addirittura ho precisato, anche io avevo capito la Consigliera di Gesù, però sicuramente dico ho capito male, no, o magari... Oggi mi aspetto che si faccia subito con la delibera. Ancora tempo perdiamo. Consigliere Altadonna, il tempo non è stato perso, è stato fatto un passaggio col dirigente scolastico, poi diciamo il tempo non ha aiutato neanche il periodo soprattutto. Consigliere di Gesù, Sì, 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 ma consideri che io da gennaio... Io non ho trovato un indoratore. Come? No, prego, prego, Consigliera, prego. Ok. Dico, c'è anche il comitato delle donne, non ricordo di preciso, loro ci tengono tantissime a partecipare. La delibera, se non è, è stata approvata a fine 2020, quindi siamo andati incontro a un periodo, lo sappiamo tutti, come è stato, e quindi abbiamo allentato un po' la presa, ma sicuramente adesso si ripartiranno con tutte le attività finché sarà possibile, perché comunque i contagi stanno aumentando, quindi speriamo bene. Comunque l'importante è essersi chiariti. Io non so se si è espresso male lei o ho capito male io. No, 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 l'importante è essersi chiariti. Mi sono espresso male senz'altro io, su questo non ci sono dubbi. D'accordo, vabbè, l'importante è essersi chiariti. Consiglieri, nulla di grave, l'importante è essersi chiariti. Grazie, consiglieri. Ci sono altri interventi? Qualcuno vuole intervenire? Grazie. Grazie. Non ci sono altri interventi? Nomine esplutatori? La consigliera Di Gesù, la consigliera Cavaliere e il consigliere Stabile. Chi è contrario e chi si astiene? Ma Stabile c'è? C'è Stabile, sì. Perfetto, allora togliamo il consigliere Stabile. No, 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 è presente, è presente Stabile. Ah, perfetto, allora. Ripiloghiamo. Ma ha detto che sono assente? A posto, consigliere, non c'è problema. Ripiloghiamo. Non ci sono, non ci comprogrammo. La consigliera Cavaliere, la consigliera Di Gesù e il consigliere Stabile, chi è contrario e chi si astiene, approvata all'unanimità. Prego, segretario, di mettere l'ordine del giorno sul profetto. Grazie. Presidente, volevo ricordare altresì, se mi consente, che la postazione di Largo Bozzillo è ancora chiusa. Per carta d'identità, stato civile e via discutendo. Mi pare che i tempi si stiano dilatando, non riusciamo a offrire alcun servizio se non quello dei certificati e via discutendo. Quindi, diciamo, ancora una volta, i giorni passano ma nulla di concreto si porta avanti. Non si riesce a sbrogliare questa matassa. Grazie, mi scusi sempre se io approfitto della sua bontà, Presidente. No, no, prego, consigliere Rosaldo, quando sono temi importanti non è un problema di bontà, è un problema di esigenze e bisogna dirle le cose come stanno. Non c'è problema. Passiamo sull'ordine dei lavori. Il segretario se mi dà per favore il segretario. Sì, è in video, Presidente. Sì, però volevo capire nell'ultima seduta come si è chiuso. qual era il punto? Il punto era il 50. È una proposta a firma del consigliere Rosaldo, noi siamo contro la pedofilia. Ma è stato approvato o era in trattazione? No, no, si era votato il prelievo, però dopo mi hanno caricato il numero legale. Perfetto, allora, dando seguito e ordine alla seduta della volta scorsa, che il numero che è il numero è il numero è il punto 50, che è contrario a chi si astiene ha provato all'unanimità. Prego, segretario, se possiamo dare lettura della proposta. Sì. 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 Noi siamo contro la pedofilia. Considerato che i recenti fatti di cronaca vedi di giornali Sicilia del 21-2-2018 e il rapido sviluppo del fenomeno pedofilia nel nostro Paese testimonia la necessità di introdurre nell'ordinamento vigente pere ben più severe di quelle attualmente esistenti. Considerato che sovente i protagonisti tali reati hanno reiterato i loro comportamenti delittuosi e a nulla sono valse le pene detentive inflitte ai trattamenti sociosanitari adottati visto che le pubbliche istituzioni hanno il dovere morale e costituzionale di trovare i soggetti considerati più deboli dalla legge e tra questi sicuramente i minori per la spina dorsale del nostro futuro e pietra angolare di un avvenire che dovrà essere ancora più fondato sui valori di democrazia e giustizia visto che l'abuso di minori è praticamente agghiacciante in grado di condizionare in modo irreversibile le condizioni fisiche e mentali delle vittime visto che occorre interrompere il circolo vizioso che vede buona parte dei pedofili essere stati a loro volta vittime di abusi durante l'infanzia e l'adolescenza visto che sedicenti intellettuali stanno diffondendo attraverso i media una distorta e capziosa visione della pedofilia il consiglio della quinta circoscrizione impegna il presidente della circoscrizione Fabio Taresi a chiedere al sindaco professor Laluco Orlando di sollecitare il nuovo governo nazionale affinché adotti nell'arco di poco tempo nove più incisive misure legislative volta alla persecuzione e punizione del reato di pedofilia e perché agisca con maggiore decisione nei confronti di chi abusando e corrompendo i minori non commette solo un diritto orrendo ma rischia anche di minare lo diluppo della società nazionale firmatario il consigliere Umberto Posardo grazie segretario ascoltando la lettura del segretario che avviso che è una proposta importante e la ritengo anche molto chiara però se il proponente vuole intervenire ne ha facoltato innanzitutto mi scusi sicuramente presidente per un refuso avrò scritto seducenti ma è sedicenti quindi prego di è un refuso non è seducente ma sedicenti almeno dalla lettura sì 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 è scritto c'è un errore di battitura sì sì è un refuso sedicenti non è seducenti ma sedicenti va bene questa ovviamente si capiva che era un errore di battitura prego vuole intervenire consiglio Salvi in merito alla proposta presidente se si è riunita la commissione diciamo ad hoc desidererei magari prima ascoltare sì possiamo segretario c'è un parere della commissione sì c'è un verbale possiamo dare lettura del verbale sì sì grazie il presidente il presidente Altadonna rileva che nella proposta vi sono dei punti da chiarire e che si potranno chiedere al proponente consigliere Rosardo delle delucidazioni in merito durante la saluta dei consigli il reato di pedofilia è un reato abberrante colpisce la nostra sfera emotiva ai cittadini più deboli che sono i ragazzi essendo un tema molto importante per una concreta linea d'azione rispetto a quello che si vuole fare si propone al 9.51 rimanere collegati in modalità videoconferenza di concedere del tempo ai membri della commissione per scambiare qualche idea e capire se c'è qualche associazione non riesco a leggere c'è una cosa in bianco che non riesco a leggere signor Modica non riesco a leggere ok ok ora si il tempo è vero la questione è scambiare qualche idea e capire se c'è qualche associazione qualche ente qualche professionista oltre alla pubblica amministrazione come assessore al ranno sindaco per organizzare qualche evento tangibile della volontà di contrasto a questo fenomeno in questo passo di tempo è possibile di constatare il garante dei diritti all'infanzia e all'adolescenza per chiedere se si può poi essere un'idea costruita e se il sufficio ha posto in essere qualche attività in merito e può dare suggerimenti su questo caso si può anche chiedere ai consiglieri della quinta circoscrizione come intervengono su questo tema i consiglieri sono d'accordo il presidente Artadonna comunica che ha fatto le ricerche nelle telefonate è molto complesso per quanto riguarda la punizione del reato esistono le leggi ma la prevenzione della pedofilia è un altro capitolo che comprende la pedofilia online la pedofilia in ambito familiare eccetera eccetera è sempre non è sufficiente per affrontare il problema pertanto ha chiesto al garante di partecipare ad una seduta di consiglio propone l'atto così com'è e prelevarlo in consiglio in un giorno stabilito alla presenza del garante della dottoressa Giallombardo il presidente Altadonna pone in votazione proposta firma il consiglio di Losardo adoramento oggetto un esame contro la pedofilia per appello nominale la proposta è approvata all'unità dei presenti la commissione di scena favorevole la qualità sulla proposta grazie segretario il consigliere Losardo vuole intervenire senti mi sembra che diciamo l'iniziativa che vuole intraprendere il consigliere Altadonna sia sia lodevole quindi da da portare da portare avanti c'è un è un tema una problematica abbastanza intensa appunto da da approfondire continuamente perché si possono scoprire nuovi risvolti gli studi sono sempre attenti e mirati appunto a cercare di individuare maggiormente quali sono le cause appunto di questo fenomeno di questa malattia ecco sicuramente la possiamo definire anche malattia quindi aspettiamo appunto che si riesca a a portare a termine questi inviti con persone sicuramente altolocate e competenti per fare una manifestazione particolare e incisiva grazie consigliere Lofardo ci sono altri interventi non ci sono altri interventi discussione generale è chiusa a questo punto mettiamo in votazione la proposta e lo facciamo per appello nominale segretario grazie sì ok 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 si ok Grazie a tutti. Peresi, assente. Aiello, favorevole. Altadonna, assente. Cavaliere, favorevole. Di Gesù, favorevole. Figuccia, assente. Lo sardo, favorevole. Lucido, assente. Palazzo, assente. Stabile, assente. Presidente, quattro presenti e sei assenti. Visto il numero legale, la seduta è rinviata di un'ora. Presidente, sei ancora in linea? Sì, prego. Mi scusi, sì.